Ciao Sigla.Zero e in questo nuovo video ci farò vedere come realizzare le shaloup dell'Americo Vespucci e quindi SIGLA! Eccoci ora, prima della sigla oggi farò vedere come cominciare le shaloup dell'Americo Vespucci come appunto ora vedete durante il video per fare queste shaloup non ho preso direttamente il pieno di costruzione anche perché in sé il piano non forniva lo scheletro della farsa ghiglia delle shaloup ma soltanto due immagini, in questo caso una vista di profilo e l'altra vista dall'alto che più o meno comunque sia da quelle immagini si può già estrapolare qualche cosa anche se in realtà erano state soltanto aggiunte perché poi vengono già le shaloup fatte quindi poi basta soltanto divingerle e ovviamente installarle nel modello ovviamente io quella volevo realizzarne io da zero come ho fatto con lo scafo principale dell'Americo Vespucci e diciamo che ho già cominciato appunto come vedete ora durante il video infatti per estrapolare da queste due immagini tutta diciamo la forma, la sagoma dello scafo e delle shaloup ho cercato quella anche un po' su internet e poi ho cercato di dare una forma più precisa possibile in questo video vedrete soltanto appunto come vado a realizzarla al capo quindi creo il progetto in 3d ovviamente già anche stampabile tramite la stampa del 3d o anche poi facendo i vari profili e i vari vari di costruzione andarli a sagomare nelle tavole di legno appunto nella farsa ma questo poi lo ragioneremo nei prossimi video ora detto questo vi lascio al video ok cominciamo dobbiamo prendere della carta forno o della carta lucida e cominciare a ricalcare la sagoma appunto che c'è nel foglio ora man mano che vedete nel video tramite queste sagome riusciremo a ricavare per l'appunto lo scheletro delle shaloup in modo poi per realizzarle nei prossimi video come vedete sto passando la manita prima da un lato e poi prima di passarla nella carta la passerò dall'altro lato se no appunto il disegno non si riesce a trasferire in questo caso io sto facendo così però volendo si potrebbe scannerizzare e poi stampare direttamente già su un foglio però siccome a me serve perché devo fare appunto ora come vedrete altre lavorazioni sto facendo così in questo precedimento non è obbligatorio prendere tutti i dettagli che ci sono nell'immagine anche perché ci serve soltanto per realizzare la parte interna dello scafo e i dettagli appunto poi li prenderemo dopo nei prossimi video una volta passato il disegno possiamo cominciare a realizzare la falsa chiglia e tutte le varie ordinate per l'appunto intanto le passo con la matita e poi dopo le andremo a ricalcare appunto con la penna in modo da evidenziarle e non confonderci voi durante gli altri procedimenti in questo caso io non essendo a casa mia non avevo le squadrette utilizzate comunque un foglio comunque potete utilizzare qualcosa che faccia delle linee belletrische appunto adesso come state vedendo con la penna rossa vado a ricalcare le ordinate che sono andati a disegnare e anche appunto la falsa chiglia che già è stata ricalcata questo è soltanto oltre che ad essere appunto una parte estetica che voglio dargli al disegno serve anche per non confondermi poi per prendere le varie misure ok ora le vado sempre così ad evidenziare perfetto io sto utilizzando il colore rosso però voi potete utilizzare qualunque altro colore potete anche lasciarlo a matita io siccome appunto come ho detto mi serve soltanto per evidenziare mi rende appunto il tutto più comodo e più semplice quindi continuiamo ok appunto come state vedendo perfetto ok adesso che abbiamo realizzato le varie ordinate le andiamo di nuovo a ricalcare con la carta lucida oppure appunto se non ce l'avete anche con la carta forno in questo caso serve appunto prendere le misure giuste ovviamente e poi andare a preferire tutto sul foglio che poi sarà quello definitivo in questo caso le ordinate le ho realizzate prendendo soltanto la larghezza e la lunghezza poi la sagoma tramite foto che ho preso anche su internet sono andato a darla io il più ovviamente realistica possibile una volta fino a ricalcare la falsa ghiglia possiamo andare a ricalcare la falsa ghiglia possiamo andare a ricalcare di nuovo con la penna in questo caso appunto a me serve sempre per evidenziarla rispetto ai quadretti del foglio anche perché adesso voi non lo state vedendo ma successivamente andrò appunto a realizzare una griglia che mi permetterà poi di avere i punti diciamo di i punti di indicazione che mi indicano le giuste misure e poi posso andarlo a fare al computer infatti come adesso state vedendo sto andando a realizzare diciamo le pareti della griglia quelle che mi vanno a delimitare l'aria che riguarda appunto la parte centrale della falsa ghiglia della scialuppa anche qui la vado a fare a penna in modo da evidenziarla mentre invece la parte centrale la realizzo in matita diciamo una specie di sovrapposta quasi messa sotto tutto il resto del disegno quindi non mi serve che sia troppo evidenziata e la posso lasciare a matita ok adesso possiamo al CAD 3D in questo caso io utilizzo Rhinoceros come negli altri video e anche qui il procedimento è come quello che abbiamo fatto sul foglio dobbiamo andare prima a realizzare la griglia che è appunto quello che mi permette di avere le giuste misure quindi andiamo a fare l'offset della curva in modo da andare a ripetere le stesse misure delle stesse linee in maniera continua fino a quando appunto noi raggiungiamo il numero che ci serve a noi per appunto realizzare il tutto una volta fatte quelle in verticale possiamo passare in quelle orizzontali il procedimento è praticamente identico per tutti e due tipi di linea quindi continuiamo e una volta fatto il tutto lo evidenziamo e cominciamo appunto a tagliare in questo caso stiamo tenendo l'eccesso anche qui è puramente estetico e serve soltanto a non riempire l'area di lavoro dello schermo anche perché sono linee che non ci serviranno una volta arrivati a questo punto dobbiamo andare a tracciare sempre con l'offset della curva le linee che andranno a delimitare alcuni punti focali diciamo della falsa griglia perché per esempio alcuni punti non combaciano con le linee già predefinite e dobbiamo andare a realizzare con le visore ovviamente opportune quindi una linea magari un millimetro più avanzata un altro due millimetri più avanzata e così via ok come vedete li sto facendo diciamo varie perché appunto alcuni punti combaciano perfettamente invece altri no e adesso andiamo a realizzare le parti fondamentali dello scheletro appunto le parti curve che sono quella della prua e quella della poppa dove c'è appunto il timone e poi davanti appunto il muso della scialuppa in questo caso se la curva inizialmente non viene proprio precisa al disegno possiamo farla comunque infatti poi man mano che andremo avanti taglieremo e uniremo i vari componenti e le varie linee possiamo andarla a modificare e sistemare con le giuste misure per l'appunto infatti il bello di questo programma è che noi possiamo farla anche lunga tipo due metri nel programma ma poi mettendo alcune misure possiamo andare a modificarla e renderla della misura giusta quindi una volta fatto il tutto sistemato le varie forme selezioniamo le linee principali che sono quelle appunto che andranno la forma alla farsa chiglia dopodiché le selezioniamo facciamo il comando taglia e cominciamo a levare le linee in eccesso che sono quelle linee che a noi appunto non servono una volta fatto questo possiamo cominciare ad unirle col programma appunto unisci andiamo ad unire il tutto in modo da renderlo un pezzo unico ok una volta uniti il tutto dobbiamo andare a fare le insenature in cui appunto alloggeranno le varie ordinate in questo caso facciamo offset di una curva e andiamo a tracciare una linea a metà tra le due linee che a noi interessano in questo caso sono di 4 mm di distanza ne facciamo una a 2 mm selezioniamo le linee che ci servono e col comando tronca possiamo andare a troncare tutte le linee in eccesso che non servono appunto al nostro progetto quindi andiamo a selezionare tutte le linee che dobbiamo cancellare o quelle che comunque devono essere tagliate perfetto perfetto ok anche qui una volta fatto questo procedimento possiamo procedere con l'unire il tutto per renderlo un pezzo unico e interno in questo caso andremo appunto anche ad annullare qualche piccolo decimo di millimetro di spazio rimasto tra una linea e l'altra appunto perché il programma automaticamente unisce il tutto e toglie tutti gli spazi liberi ed ecco qua abbiamo tutte le ordinate già pronte insieme appunto alla ghiglia quindi andiamo a selezionarle tutte e facciamo l'estrusore di linea che ci permette di rendere un disegno piatto un disegno solido quindi appunto andiamo allo spessore che ci interessa in questo caso io do due millimetri e finalmente abbiamo i componenti per la scialuppa e quindi il video finisce qua come appunto avete visto anche durante il video fare questi procedimenti non è nulla di complicato bisogna portare un po' di esperienza con la progettazione in CAD 3D e con la progettazione in cartacea perché ovviamente come ho detto anche prima del video il piano di costruzione originale non forniva la falsa ghiglia già disegnata forniva soltanto le due immagini cioè il profilo e la parte superiore io da quelle due ho cercato di estrapolare tramite la progettazione ortogonale tramite poi il CAD 3D e vari procedimenti di progettazione ho cercato di estrapolare diciamo la forma che poteva avere appunto la scialuppa anche tramite qualche foto diciamo online ho cercato ho visto anche più o meno la salata magomera e l'ho cercato di rappresentarla il più fedelmente possibile all'originale in questo caso io ho fatto la parte anche in CAD 3D anche perché volevo realizzare le scialuppe con la stampata 3D appunto vedremo poi nei prossimi video come farla ma in tal caso qualcuno di voi se non ha esperienza con i CAD 3D può fermarsi anche direttamente alla parte cartacea che già tramite quella può già cominciare a realizzarle perché basta da spedire i disegni su un compensato ovviamente o su una base delle giuste dimensioni e poi di tagliare il tutto e poi ovviamente basta sembrarlo e vedremo appunto poi nei prossimi video di queste scialuppe ne dobbiamo fare ben 4 in questo caso io ve ne ho fatte vedere due ma il procedimento è lo stesso per tutte comunque cercando online trovate le varie immagini e ovviamente le varie forme o comunque sia qui in alto alla destra sinistra io vi metto direttamente tutte e quattro le immagini delle scialuppe in modo che voi potete vedere come farle e che forma ovviamente hanno le scialuppe le vendono anche già fatte già proprio appunto stampando tutte cose fatte ovviamente in plastica basta tanto dipingerle e poi ovviamente installarle nel proprio modello ovviamente con questo tipo di scialuppe magari si possono avere più particolari però diciamo si perde un po' quel divertimento che c'è dal punto dell'andare a realizzare noi con le nostre mani con la nostra destra perché bisogna andare a vedere anche la giusta forma e ovviamente puoi dare le giuste proporzioni e quindi il video finisce qua io spero che il video vi sia piaciuto nei commenti sempre e con l'informazione in discussione vediamo anche tutti i link ovviamente il nome di come si chiama non lasciate un po' online per poterle comprare già fatte quindi iscrivete al canale c'è ancora fatto lasciatevi se vi piace attivate la camera di video invece per tutto il video vi ringrazio tutti per quella di alle 11 e quindi ciao